Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Un saluto dalla redazione, studio Mariangela Salvalaggio litiga con la compagna e dà alle fiamme la casa a due ostenati gravi a Leini durante le operazioni di spegnimento è rimasto ferito un volontario travolto dalla caduta di un infisso Lutto cittadino oggi a Fossano, in cattedrale e funerali di Alberto Balocco morto venerdì, folgorato da un fulmine mentre era in mountain bike sulle strade della Sietta in Val di Susa se ne va due mesi dopo suo papà Aldo Una coltellata in pieno addome non gli ha lasciato scampo è morto così ieri all'ora di pranzo Andrea Maiolo, 30 anni di Biella colpito in strada durante una lite nella sua città per il delitto la polizia ha già fermato un uomo Gregory Ucchio, 22 anni, legato alla sorella della vittima Covid, nell'ultimo bollettino regionale 937 nuovi casi con un tasso di positività dell'11,2% resta stabile il numero dei ricoverati Cade da un pendio mentre cerca funghi muore il capogruppo degli alpini di Casa Pinta nel Biellese l'incidente a Carcoforo, la vittima è Pierpaolo Bassetti Scontro trana tanti sul lago Maggiore 7 feriti lievi, 9 le persone coinvolte nell'incidente tra cui 4 minorenni una a 14enne è stata trasportata in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza per delle lesioni ad una mano alla Pernigotti di Novi un vero spiraglio i turchi cedono l'azienda Dolciaria mercoledì la conferma ma sono già filtrate voci piuttosto rassicuranti subentrerà la JP Morgan è tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez Zip News Zip News punto it le notizie nel modo più veloce Zip News